La prima considerazione che vorrei fare è questa. Conosciamo molto bene Spaventa dal punto di vista storico. Conosciamo nelle relazioni che ha avuto con il pensiero italiano, quello che ha contribuito relativamente al rilancio di questo pensiero, l'influenza che ha avuto su alcuni pensatori, mi riferisco in particolare a Giovanni Gentile, su alcuni pensatori italiani del Novecento e tutto questo lo sappiamo. Però il pensiero di Spaventa, come accade anche ad autori ben più rilevanti di Spaventa, faccio riferimento a Gian Battista Vico, il pensiero di Spaventa è poco presente nel dibattito culturale attuale. Noi italiani abbiamo l'abitudine di fare una storia antiquaria, creiamo dei monumenti e tra questi vi è Bertrando Spaventa. E di Bertrando Spaventa non prendiamo in considerazione quello che invece, a mio avviso, oggi può essere particolarmente importante. Spaventa direi che uno dei pochissimi autori, anche a livello europeo, che ha penetrato nel profondo il senso della fenomenologia hegeliana. Il senso di Spaventa, anche per influsso di Gentile, si studiano i contributi che Spaventa ha dato riguardo alle prime categorie della scienza della logica, essere, non essere e divenire. Anche per rispondere alle obiezioni di Trendelenburg e della scuola tedesca che si richiamava Trendelenburg anche polemicamente. Non credo che sia lì l'importante. L'importanza di Spaventa riguarda fondamentalmente quello che in Hegel nella fenomenologia viene presentato come il problema del rapporto tra la coscienza dell'esperienza e l'esperienza della coscienza. Un problema particolarmente attuale. Lo posso dire nella forma più semplice. Qual è la prassi che è in opera quando noi facciamo filosofia? Che cosa facciamo noi quando parliamo filosoficamente? E parlare filosoficamente può significare anche della prassi filosofica? E' possibile ridurre a contenuto di coscienza l'esperienza della coscienza? Questo è un problema assolutamente attuale ed è un problema che Spaventa ha messo in evidenza con grande finezza, che cosa è importante di Hegel. Proprio il concetto dell'esperienza. Il concetto dell'esperienza che la logica non riesce ad assorbire in sé. E da allora Spaventa, leggendo Hegel, ci ha mostrato anche un Hegel più inquieto. Non lo Hegel sistematico, lo Hegel di Vera, o anche lo Hegel studiato da Gentile, da Croce. Lo Hegel inquieto, lo Hegel per esempio interprete dell'Edipo Re. Lo Hegel che legge la tragedia e nella tragedia affronta un problema rispetto a cui ha sempre avuto un rapporto di inquietudine radicale, quella che è l'ombra della coscienza, quello che è l'inconscio della coscienza, quello che con espressione magnifica Hegel ha chiamato di Lichtescheue Macht, la potenza che è in orrore la luce. Ma questa potenza che è in orrore la luce opera nella stessa coscienza, nella stessa luce della coscienza. Con Spaventa giungiamo a capire in che modo il pensiero è limitato, in che modo il rapporto pensiero-essere non è un rapporto di pacificazione, non è un rapporto di sintesi, non è un rapporto di identità, ma anzi esattamente un rapporto di conflitto. Ecco, Gentile che ha diffuso il pensiero di Spaventa è stato anche quello che ha reso molto più difficile, la comprensione di Spaventa. In terra germanica Spaventa è pressoché sconosciuto. Conosco soltanto un riferimento recente, quello di Dieter Herrig, che in un testo su Hegel faceva riferimento a Spinoza e faceva riferimento a Spaventa. Facendo riferimento a Spaventa individuava in Spaventa l'inizio di una lettura fictiana di Hegel. Herrig, dispiace dirlo, non aveva compreso assolutamente niente. Perché? Perché influenzato dal pensiero di Giovanni Gentile.